Una città più a misura di pedone, aree verdi, ma anche una viabilità in grado di favorire gli accessi al centro e poi la riconversione di aree dismesse. Chiedono un dialogo e una politica efficace per sostenere la ripresa, confartigianato e confcommercio conegliano, alla nuova amministrazione che si insedierà dopo le urne. Le richieste di cittadini e imprenditori e candidati sindaco emergono dall'indagine commissionata dalle due associazioni di categoria che ha dimostrato una diffusa volontà di partecipazione al rilancio della città e idee chiare su come intervenire. Un buon progetto per l'area Zanussi, per il centro storico e delle vere iniziative per riportare le imprese in centro storico. Un aiuto alle imprese femminili e l'aiuto per la nascita di nuove imprese. I giovani, puntare molto sui giovani considerando il desiderata dei giovani. Portare a Conegliano centri di alta formazione tecnologica, centri di trasferimento della conoscenza e della tecnologia per poter poi restare a Conegliano e lavorare a Conegliano. Input per i candidati che il futuro sindaco ci si aspetta tenga in considerazione. Ci sono dei temi molto importanti che riguardano i negozi sfitti, gli affitti, i locali che comunque sono tanti, sono circa 50 punti vendita a Conegliano che oggi non hanno risorsa, non hanno tra l'altro luce e dimostrano poi alla fine a chi viene a Conegliano un forte degrado generale.